Palla a centro campo Carobbio, profondo il suo laccio all'interno dell'area Boruso, sforbiciata a rete, splendida golla di Paredes, al 92esimo Paredes realizza un gol magnifico, Reggina che a quanto è il pari, pieno recupero. E' finita così, due a due tra Reggina e Palermo, migliore in capo per la Reggina, sicuramente Paredes.